amici in ascolto oggi parliamo di una nuova importante patologia della malattia di parkinson e dei parkinsonismi un mio cliente mi ha detto però noi ci preoccupiamo un po perché ci parla sempre di malattie di patologie di cose gravi di tumori pressione infarto ictus non va bene non va bene io penso che sia importante parlarne come abbiamo detto anche altre volte soprattutto per conoscere i sintomi e quindi per sapersi curare ma anche per prevenire soprattutto queste patologie vi faccio un esempio in medicina accadono tante cose ultimamente si è molto parlato di un virus che si chiama virus zika qualcuno dice è la zanzara zika in realtà questa malattia che è veramente grave è caratterizzata dalla presenza di microcefalia nei bambini che nascono perché perché la zanzara edes si chiama è quella che trasmette il virus zika il quale provoca delle malformazioni al livello della vita intrauterina nel feto e i bambini nascono con un cranio molto piccolo è una cosa abbastanza grave ci sono anche delle conseguenze neurologiche perché vi dico questo perché ogni volta che c'è una malattia anche grave parte tutto un meccanismo nel mondo scientifico che porta a una soluzione di questa patologia o per lo meno a quegli studi che prima o poi risolveranno il caso clinico e ci aiuteranno a vivere meglio e a lungo anche in questo caso del virus zika che è saltato agli occhi della cronaca soltanto nel 2006 2007 cioè quando è diventato quasi un problema endemico in alcune aree del sud america anche in questo caso dicevo stiamo stiamo per arrivare ad un vaccino nei confronti di questa di questo virus zika e la domanda per i vaccini è stata presentata già in india che sta conducendo proprio uno studio specifico ed è già pronto se non è già partito il vaccino su dei volontari e su degli animali come si fa normalmente torniamo quindi alla nostra patologia che è quella di oggi della malattia di parkinson che cos'è il parkinson è una sindrome c'è un insieme di più segni patologici che danno luogo a una associazione di problemi caratterizzati dal tremore i parkinsoniani tremono a una rigidità dell'apparato muscolare e a una bradicinesia c'è una caratteristica alterazione lentezza nei movimenti nella deambulazione nel modo di porgersi noi parliamo oggi oltre che di questa malattia di parkinson anche dei parkinsonismi cioè di quelle forme secondarie che somigliano al parkinson questa patologia tuttora presente in italia e che si stima col dopo i 65 anni colpisce diverse persone anche se vi sono forme purtroppo giovanili si calcola che i pazienti in italia affetti da parkinson siano oltre 80 100 mila questa malattia perché si realizza si realizza perché mancano al livello cerebrale dei mediatori chimici perché sono distrutti dei neuroni che producono questi mediatori che conducono lo stimolo nervoso perché si è fatto abuso di alcune sostanze di alcuni farmaci di cui ora parliamo la malattia compie il prossimo anno nel 2017 la scoperta di questa malattia compie i due secoli infatti è stata è stata per la prima volta descritta nel 1817 da un medico chiamato james parkinson e pertanto prende questo nome vi dicevo si possono avere anche delle sostanze che si usano ad esempio i farmaci antipsicotici voglio parlare dell'alloperidono ma anche di altri quando se ne abusa questi farmaci causano altro parkinsonismo altro farmaco per esempio la reserpina io ero ancora un ragazzo quando vedevo alcuni alcuni familiari che prendevano un farmaco chiamato l'asix reserpina che era l'unico che esisteva all'epoca uno dei pochi nei confronti della della malattia ipertensiva cioè per quella pressione la reserpina può dare parkinson per cui oggi è stata completamente abbandonata ma anche il monossido di carbonio anche l'assunzione di mancanese cioè tutte sostanze estrarre che danno dei danni sull'organismo come si realizza questa malattia perché si realizza perché noi abbiamo tutti i giorni una perdita dei neuroni nel nostro cervello che poi non è tanto grande la scatola cranica no è poco poco più di una scatola o poco meno di una scatola di 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 scarpe se fate voi la misura del vostro piede vedete un pochino che scarpa portate che cervello vede nel cervello vi sono miliardi di neuroni ma veramente tantissimo un numero infinito quasi bene nel parkinson si realizza una perdita di alcuni neuroni particolari che si trovano nella substanza nicra nel locus ceruleus tutte zone particolari del cervello e sono dei neuroni dopaminergici cioè dei neuroni che secernono la dopamina sostanza un mediatore cerebrale ora nell'invecchiamento è fisiologico perdere questi neuroni ma la vera malattia di parkinson si realizza quando noi di questi neuroni ne perdiamo il 90 per cento perciò state sicuri difficile arrivare a questa perdita anche se alcuni succede il 90 per cento di perdita dei neuroni dopaminergici può causare l'insorgenza sintomatica della malattia questo perché l'intero nostro cervello è regolato da una serie di mediatori c'è di sostanze chimiche che permettono le reazioni per le quali noi abbiamo dolore e abbiamo simpatia nei confronti di alcuno di alcuni non dovremmo avere odio nei confronti di altri volte succede siamo malinconici e tristi oppure siamo contenti tutto questo su una base neuronale e su una base di mediatori cerebrali cosa succede in questi casi succede che una determinata sostanza non viene più prodotta e mancano a livello del cervello le possibilità di alcune reazioni biochimiche biologiche di chimica e biologica per cui alcune sostanze non prodotte causano questo quadro che abbiamo in precedenza descritto e che ora descriveremo meglio abbiamo detto che la triade è il tremore l'ipertonia e la riduzione dei movimenti ecco il tremore è un tremore tipico che è più accentuato al riposo vi capita di vedere qualcuno sulla sedia seduto le cui mani tremano tremano con dei movimenti piuttosto fini è un tremore che più accentuato anche quando c'è una emotività un'emozione quando c'è un affaticamento è un tremore che stranamente scompare nel sonno e diminuisce anche durante l'esecuzione dei movimenti questo tremore localizzato molte volte a una sola parte del corpo c'è una mano o un piede molte volte prende la mandibola la lingua la fronte ma la cosa più appariscente di questi pazienti con parkinson è la rigidità cioè se voi prendete un un tubo di piombo oggi si trova poco questo in giro nei negozi non si usa più il piombo nelle condutture idriche nei lavandini il piombo si può anche piegare e però ha una resistenza se uno prende il braccio di un presente con parkinson nota che c'è una difficoltà nel muoverlo appunto perché il tono muscolare è aumentato un'altra caratteristica questi pazienti il volto ea mimico inespressivo cioè non non sorridono né si atteggiano sono come se fossero delle maschere infatti si parla di maschera parkinsoniana lo sguardo è fisso e anche i movimenti di ammiccamento cioè del chiudere le palpebre spontaneamente noi lo facciamo tante volte nel corso di un minuto senza accorgersene questo movimento scompare ma sono soprattutto compromessi i movimenti fini delle mani volte anche i riflessi si comincia a scrivere con lettere piccole irregolari in micrografia ma anche per questo non preoccupatevi troppo perché capita quando si scrive senza gli occhiali e si hanno dei difetti della vista che si scrive molto piccolo una caratteristica dei pazienti con parkinson è quella che si osserva all'inizio del movimento si vedono dei pazienti che se sono seduti su una sedia e devono alzarsi lo fanno con difficoltà o se sono fermi e devono iniziare a camminare all'inizio è come se si inceppassero come se avessero difficoltà e c'era difficoltà una volta che hanno fatto un metro o due cominciano invece a camminare più velocemente e quasi inseguendo il proprio baricentro c'è una testa con il corpo un po' flesso in avanti quasi correndo questo si chiama festinazione si affrettono ed è qualcosa di molto tipico il parkinson progredisce lentamente in cinque dieci anni e raggiunge anche dei problemi di grossa invalidità una percentuale dei pazienti con parkinson appunto perché il cervello è colpito e l'organo principalmente colpito non la sintomatologia del tremore rigidità e bradicinesia che sono i sintomi il cervello è colpito in alcuni casi il parkinson può andare incontro a parkinson demenza parleremo anche delle demenze per ricordare questo problema fortunatamente non tutti i parkinson vanno incontro della demenza però la perdita delle capacità critiche cioè del saper riconoscere delle cose delle capacità ignosiche del sapere cosa fare o non fare del parlare e del ricordare sono intere nella maggior parte dei parkinsoniani anzi quando si parla con un paziente che è il parkinson ci si accorge che da una non siamo di fronte a una statua una persona che ragiona che commenta che è capace di descrivere quello che succede la diagnosi che clinica giustamente si può fare anche con dei moderni mezzi ad esempio la PET che è la tomografia di emissione di positroni che ci fa vedere come in alcune aree cerebrali ci sia una alterazione una atrofia dei neuroni di cui abbiamo parlato prima fortunatamente lo dicevo prima per il virus per il quale stiamo cercando un vaccino in questo caso la terapia può essere fatta perché già l'abbiamo è qualcosa che è nata non negli ultimi decenni ma da diverso tempo anche se nella prima parte nella prima fase della malattia quando cominciano dei tremori quando cominciano dei problemi nel camminare vedete una cosa banale voglio dire quando noi camminiamo ci affrettiamo se abbiamo le mani libere le braccia che sono le lati del corpo noi combiamo dei movimenti involontari che appunto si chiamano extra piramidali muovendo le braccia in avanti e indietro come come accade durante la marcia normale il parcheggio non riesce a fare più questo allora quando vi sono dei segni iniziali che sarà il medico riconoscere e a diagnosticare sarà opportuno in quel momento iniziare non con una terapia farmacologica e vi dico anche il perché ma con una terapia fisica e riabilitativa cioè sarà opportuno creare un programma per ognuno di questi pazienti migliorare la mobilità del paziente la coordinazione dei movimenti dell'equilibrio facendo degli esercizi di apprendimento di alcune tecniche che sono in mano ai terapisti da da insegnare a questi pazienti sarà importante la cura personale nel vestirsi nel mangiare perché la difficoltà dei movimenti da problemi anche per quelli che sono gli atti quotidiani della vita perché non iniziare subito con la terapia perché la sostanza che noi diamo è che ha risolto i problemi del Parkinson la levodopa è iniziata già alla fine degli anni 60 quindi siamo ormai a 40 60 anni quasi di terapia di conoscenza di questa terapia vi sono dei problemi legati proprio alla terapia nel senso che la molecola che diamo a un certo punto può non funzionare più e bisogna aumentare le dosi la levodopa è un farmaco che viene dato per il trattamento di questa patologia in quanto interviene direttamente sul meccanismo principale che è responsabile delle manifestazioni cliniche cioè noi forniamo dall'esterno quel mediatore cerebrale che manga però vi ripeto col passare del tempo si verificano dei fenomeni che noi chiamiamo no wearing off che on off cioè c'è bisogno di assumere sempre una maggiore quantità di questo farmaco e di assumere gli intervalli ravvicinati cioè come se il motore consumasse più benzina e bisogna in continuazione fare rifornimento anche in questo caso però ci viene avanti la scienza medica perché sono state studiate nuove molecole che noi chiamiamo ci sono sia dei dopaminagonisti dei dopaminergici problemi nostri di nomi di denominazioni sostanze nuove che riescono ad agire sempre a livello cerebrale che vanno prese con determinato dosaggio con determinate prescrizioni che riescono a poter curare il parkinson il parkinson vi volevo anche dire che in alcuni casi molto particolare si sta con una terapia chirurgica che non serve altro che a interrompere alcune fibre a livello cerebrale e quasi prima di terminare e dirvi ancora perché abbiamo parlato all'inizio di malattia di parkinson e di parkinsonismi questa è la vera malattia di parkinson quella che abbiamo descritto che su base degenerativa purtroppo il nostro cervello con il corso degli anni va incontro a tante forme di degenerazione non perché manchi questa sostanza perché non arriva sangue perché c'è l'anemia e arriva meno sangue in testa perché i vasi sanguigni anche cerebrali sono rovinati dal colesterolo dai grassi dalle sostanze che si deposito bene quando questi vasi sono alterati a livello di quelle aree deputate diciamo alla prevenzione del morbo di parkinson è un modo improprio questo di dire si fa in conto allo stesso quarcio il paziente presente in tardetà i segni del parkinson pur non avendo la malattia di parkinson ma una degenerazione delle varie zone cerebrali spero di aver espresso questo concetto per dirvi la solita storia di tutte le storie dobbiamo fare in modo di conservare i nostri organi attivi principalmente il cervello che ci serve per ragionare facendo tutta la prevenzione possibile su quello che è il fumo, l'alimentazione, l'attività fisica il vivere normalmente sperando di poter andare sempre avanti nel modo migliore come l'augurio per tutti di Radio Speranza Pescara